Non ce l'ha fatta Frank Carpentieri a sconfiggere il cancro, nonostante abbia lottato contro il male con tutte le sue forze. Il DJ di Made in Sud si è spento a soli 47 anni. Al suo attivo anche collaborazioni con i grandi dello spettacolo. L'artista era ricoverato dallo scorso inverno al Monaldi. Erano stati tanti i messaggi anche di calciatori del Napoli all'epoca per dargli la forza di proseguire la sua lunga battaglia fino al tragico epilogo odierno. Sono tanti i post di cordoglio che in queste ore affollano i social per ricordarlo. Prima dei suoi ultimi respiri il DJ ha espresso ringraziamenti agli ospedali dei Colli, riconoscendo come eroi i medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi. Una battaglia che non gli ha lasciato scampo. Francesco Carpentieri, in arte Frank Carpentieri, napoletano classe 1976, era autore di sigle televisive e disc jockey. Sua era l'omonima sigla dello show comico Made in Sud. Una precoce passione per il ritmo, in particolare la batteria, che iniziò ad usare all'età di 9 anni. Sogni raggiunti ed altri ormai spenti, irraggiungibili per una giovane vita strappata troppo in fretta.